Lecce-Torino termina 0-2, il Lecce gioca in casa, in Puglia, il Torino fuori casa, quindi non nel Piemonte. La partita va tutta bene per il Toro, che qua è bene, fa due gol di bellezza epica, straordinaria, e riesce a trovare lo specchio della porta in entrambe le occasioni. A segnare due gol, che arrivano tutti, e due nel primo tempo, sono stati Wilfred Singo e Antonio Sanabria. Singo e Sanabria riescono a trovare lo specchio della porta in maniera mirabile, entrano a pieno tacco direttamente dentro, e la partita va tutta al vantaggio del Toro. Il Lecce resta a guardare in un angolo, chiuso in schemi, o meglio in schematismi, che purtroppo non ampliano il gioco, che rimane fisso ed evitario, in una condizione che non è quella che effettivamente ballando doveva essere trovata, o meglio individuata. Complimenti dunque al Toro, peccato per il Lecce, che riuscendo a comunque trovare qualche possesso di balla maggiore rispetto al Toro, non riesce lo stesso a vincere. Bene, il video termina qua, vi auguro una buona notte a tutti, dal vostro narratore italiano di YouTube Italiano.